Buongiorno a tutti, bentornati Qua nella nostra galassia Oggi pesce di aprile Quindi non vi chiederò di iscrivervi al mio canale E di attivare la campanella Ma più che altro per svogliatezza E non ho voglia di tirarla per le lunghe Oggi mega notiziona Anche se sembrava un pesce d'aprile Ho dovuto aspettare un po' per capire se lo era o meno E niente, è stato annunciato il nuovo boss di Hunt Showdown Con un bellissimo video che andremo a vedere adesso E quindi io vi saluto Godetevi il video E buona serata a tutti quanti Grazie 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 Grazie